Avendo una figlia con una disabilità mi sono sempre chiesta se succede qualcosa quando è a casa con la nonna o anche con un genitore, perché anche noi possiamo sentirci male, cadere, farci del male, come fa a chiamare aiuto. E quindi mi sono confrontata con Luca, il presidente della Croce Rossa, che è anche collega di lavoro da oltre 20 anni, e lì abbiamo cominciato a ragionare su cosa era possibile fare. Come quando chiamare il 112 e come comportarsi all'arrivo di un'ambulanza. È nato così il fumetto per aiutare i bambini e i ragazzi con disabilità ad orientarsi nel mondo del 112, visto che a breve diventerà l'unico numero da chiamare in caso di emergenze. Deve servire per aiutare i ragazzi che sono affetti da disabilità a fronteggiare le esigenze che la quotidianità li mette davanti. Croce Rossa si è sempre proteggata con i suoi obiettivi strategici, tra cui anche l'inclusione sociale delle persone più vulnerabili, e tutelare e proteggere la salute e la vita, soprattutto dei bambini, in questo caso bambini vulnerabili. Quindi porteremo avanti altri progetti, abbiamo già in cantiere altri progetti, con l'associazione Crescere, sono progetti un po' ambiziosi, ma sicuramente porteranno i risultati che speriamo. I disegni sono stati creati dall'associazione Crescere, mentre i personaggi dei fumetti dai giovani impegnati in Croce Rossa. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Arezzo, dell'ITIS Galileo Galilei e del Centro Territoriale di Supporto a Retino. È l'inizio di un grande lavoro che vorrà coinvolgere pubblico e privato, partendo dalle associazioni, per dimostrare che insieme facciamo e faremo sempre più di Arezzo una città che diventa una comunità. Con l'inizio dell'anno scolastico e dell'attività didattica, il fumetto sarà presentato all'ITIS e distribuito a tutti i ragazzi con 104 che frequentano l'istituto. Di seguito sarà consegnato anche alle famiglie associate a Crescere e alla Croce Rossa presso la sede di via Raffaello Sanzio.